Come il regalo di Natale non è dei più belli da ricevere, sono 60 famiglie che nel territorio vengono ovviamente in questo momento lasciate in mano alle agenzie. Il regalo di Natale è nei 60 lavoratori in somministrazione, assunti cioè da un'agenzia esterna e impiegati allo stabilimento Pfizer di Ascoli Piceno. Nei giorni in cui il mondo guarda al vaccino anticovid della multinazionale americana, la direzione ascolana decide di non rinnovare i contratti sottoscritti nel 2018. Sono persone che hanno già una loro esperienza dentro, non sono ultimi entrati. Appesare sulle scelte si apprende un calo dei volumi che per il farmaceutico riguarda almeno il 20%. Sembrerebbe strano a dirsi se il titolo di Pfizer in borsa è volato e all'orizzonte ci sono cifre enormi per la campagna vaccinale. Eppure non c'è traccia, né ora né in futuro, della produzione del vaccino nei due stabilimenti italiani, oltre ad Ascoli, Catania. La produzione europea viene infatti sviluppata nel sito Pfizer in Belgio. Per l'Ascolano, la cui produzione riguarda ansiolitici, il famoso Xanax, oncologici e ormonali, è proprio il curarsi di meno a incidere sulla riduzione dei volumi, fatta eccezione per l'Oxanax, che tra pandemia e lockdown sembra non conoscere crisi. La riduzione dei 60 lavoratori pesa, ed è timore di nuovi tagli, in un'azienda che ad oggi impiega circa 700 persone. Siamo arrivati anche in altri periodi, fino ad arrivare con un massimo di 1000 dipendenti, quindi può capire perfettamente l'importanza dello stabilimento sul territorio Picerno e ovviamente che si ripercuotono su quella che è la situazione sociale ed economica proprio dello stesso territorio. L'attenzione di sindacati e lavoratori resta alta. Grazie a tutti.